Momenti di tensione la sera di Natale davanti al parcheggio di un fast food di Ponte Vigo d'Ardari. I carabinieri sono intervenuti notando un gruppo di giovani che stava litigando. Tra di loro c'era anche una persona armata. I militari hanno trovato un 24enne del Congo, residente a Cadonega, armato di coltello. Pochi minuti prima, con l'arma, aveva minacciato di morte un 38enne che si trovava nel parcheggio. Lo straniero ha cercato di divincolarsi e scappare al controllo, ma i carabinieri l'hanno fermato sequestrando un coltello con una lama di 18 centimetri. Il 24enne congolese è stato denunciato per resistenza pubblico ufficiale, minaccia e porto abusivo di armi.